Chi ci sa ora il potere? Il popolo? O i populisti? Ti pregherei di non arrivare su uno di questi quattro argomenti che mi hanno rotto le scatole. Vai, dimmeli quali sono. Uno sono, primo, Salvini e Di Maio litigano veramente o fanno apposta? Ne abbiamo parlato tutta la serata, quindi ti lascerò in pass. Due, la sinistra finalmente si unirà tutta, non me ne frega niente. Pure questo già fatto? Tre, Salvini finirà con Berlusconi, non me ne frega niente. E questo è poi imprescrutabile il futuro. E quattro che ha peggio di tutte, ma quando 5 Stelle e PD si uniranno, basta. Questa non ne parliamo, ne abbiamo parlato tutta la sera, sei libero.